Atti vandalici nel quartiere annunziata Giulianova, ad essere danneggiata e decapitata una delle due statuette di Padre Pio che si trovano nella cappelletta lungo la pista ciclopedonale. Una statua di gesso alta circa mezzo metro che non potrà essere aggiustata perché manca la testa che non è stata ritrovata. Un atto che ha indignato l'intera comunità che ha risposto in maniera attiva all'appello fatto dal comitato di quartiere annunziata per una colletta volta a ricomprare la statua di Padre Pio. È stata una cosa che ci ha tristemente colpiti. Adesso l'unica cosa è rimettere un nuovo Padre Pio che andremo noi nel comitato di quartiere ad acquistarlo, andremo a prendere, lo rimetteremo. Quello purtroppo decapitato da qualche personaggio, voglio dire anche squallido, lo porteremo in chiesa, sarà benedetto da prete e poi vedrà dove metterlo. Una volta che riporteremo il Padre Pio nuovo ci sarà benedizione e quindi con la speranza che queste cose qua, perché può farci sia stata anche una bravata di ragazzi così, che la sera non avendo niente a che fare purtroppo vanno a prendere proprio la cosa che non devono toccare. Il sdegno è stato tanto. Appena ho messo come comitato, sulla pagina del comitato, la notizia, tantissimi sono stati i messaggi di sdegno. Ci sono state anche delle persone, perché noi abbiamo scritto che abbiamo intenzione di riprenderla questa statua e molte persone hanno detto anche che erano favorevoli a partecipare a questa colletta.